Lo devo conoscere, perché oltre ad essere il direttore dell'Eco, per me può sbagliare, è il direttore dell'Università Diario Statistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica, Dipartimento di Scienze Cardiologiche e Toraciche e Vascolari dell'Università di Palla. Lui detiene i grandi datamaisi su dati di sfruttamento, ed è quello che per me, visto che stiamo parlando di una giornata dove facciamo cambiamenti, lui è fisicamente quello che crea cambiamenti, perché con un sacco di dati e con un sacco di informazioni solo sulla disostruzione, per banca dati mondiale, questo ce lo ricordiamo tutti, sapete che cosa è? So che si vede poco, è quello che c'è dentro l'omento, non dico nient'altro, sapete che da qualche tempo non si stacca più la parte solitaria? Ok? E grazie al lavoro di persone così fenomenali. È il professor Dario Gregorio! Dato, vediamo il tuo lavoro. Noi siamo, io ho il privilegio di dirigere questa unità di biostatistica e epidemiologia che gestisce tutta la statistica per la scuola di medicina, per la Università di Palla. Ho il privilegio di, soprattutto, coordinare un gruppo di dieci ragazzi incredibili, sono veramente vertici mondiali in ricerca. È un gruppo interdisciplinare che va dal medico all'insemmiere fino allo statistico e al matematico, passando per i nutrizionisti e i psicologi. Tutte queste persone lavorano insieme su progetti che vanno veramente a trasversare, a occuparsi della salute dei bambini. Studiamo la nutrizione, studiamo l'obesità. L'Italia ha un problema di obesità pediatrica, il 30% degli altri bambini sono sovrappesi o obesi, fino agli incidenti. Essendo tutte queste caratteristiche dei bambini collegate tra di loro, abbiamo avuto un sacco di progetti internazionali. Uno di questi, quello che si occupa degli incidenti, per cui siamo oggi qui a parlare, è il progetto su C6. E' che fatto? Stanno cittando un progetto così? Il nostro è un progetto sulla sordiglianza e la prevenzione del soppocamento da corpo estraneo dei bambini. Innanzitutto cosa intendiamo per corpo estraneo? Sono degli incidenti che avvengono per l'inserimento di corpo estraneo, appunto oggetti, negli orifizi naturali, la bocca, le orecchie, il naso, ma anche il parco genitalico, di cui non parliamo oggi. Il nostro registro è un registro che nasce nel 2004 come un progetto europeo voluto dalla Direzione Generale della Sanità e della tutela dei consumatori e della Commissione europea. L'abbiamo fondato insieme ad altri cinque Stati membri e al Ministero dell'Escolto Econome che è italiano che ci ha supportato in questo inizio. Adesso è un progetto di ricerca che è ospitato, è diretto dall'Università di Parlo, nella mia unità, che è supportato dall'Onlus Sociale che c'è da vari punti di vista. Dove siamo arrivati dal 2004 ad oggi? Beh, lo vedete, abbiamo una copertura direi globale, abbiamo 150 quasi istituzioni sanitarie per cui molti più medici ci forniscono dati, informazioni, dettagli importanti per l'apparenzione primaria, oltre 50 paesi. E per darvi i numeri, ma sono già più alti di questi, abbiamo più di 23.000 casi di incidenti effettivamente avvenuti nei bambini in 30 e 14 anni in tutti questi paesi. Quali sono gli obiettivi di questo progetto, del progetto su di 6? Innanzitutto, come ho detto all'inizio, è un progetto orientato a tutelare i consumatori, quindi ci è stato chiesto, da tutti i sanno, di studiare, di costruire dei profili di rischio per i prodotti che sono attualmente reperibili in commercio. Creare un sistema di controllo, soprattutto per i casi più gravi, che sono quelli di soffocamento, l'obiettivo è quello di tutelare i consumatori e anche di fornire dei dati comparativi, perché purtroppo ci sono dei gradienti geografici, socio-economici molto importanti che modulano l'incidenza di questi incidenti. Scusate il gioco di parole. Noi, in particolare, cosa facciamo? Noi prendiamo insieme un sacco di informazioni, i dati del nostro registro, prendiamo le opinioni e le esperienze di medici che partecipano, prendiamo i dati della letteratura e devo dire che con dei modelli matematici piuttosto complessi sintetizziamo tutte queste informazioni ai fini di produrre dei modelli di rischio. Questo ricoccolò un po' di orgoglio, perché se ne so la ricerca italiana si dice che soffre, noi soffriamo come tutti, però effettivamente queste cose le stiamo brevettando, sono brevettate dei modelli innovativi che noi sviluppiamo. Ovviamente ci occupiamo di attività scientifica, di collaborazioni di istituzioni istituzionali, abbiamo, come vedete, enti di tutto il mondo, degli Stati Uniti e della Sud America, che partecipano con noi e noi con loro a questi progetti di prevenzione. Ci occupiamo, anche, è importante dirlo, della divulgazione al pubblico e dell'informazione alle famiglie. Abbiamo creato sulla base le nostre esperienze di ricerca degli strumenti molto banali, che trovate in molti ospedali, in giro per il mondo, sono tradotti moltissime lingue. Vedete, noi fondamentalmente abbiamo, tentiamo di descrivere gli oggetti, degli elementi più pericolosi, sulla base di, fondamentalmente, qual è l'oggetto, quando di solito viene l'incidente, qual è l'incipio collegato a questo tipo di incidente, e quali sono i simboli più comuni che effettivamente lo caratterizzano. Questi posti sono veramente disponibili sul sito della mia unità, e sul sito di un child, onus, e sul sito del progetto SuSense. Questo è il legame degli oggetti, questo legame sugli alimenti. Questa settimana, quali sono gli oggetti che più a, così, in maniera più frequente possono causare problemi, ecco, incidenti? Guarda, noi abbiamo, ecco che vedete, i tre oggetti più, più frequenti, più importanti, sono, coprono più o meno le spalle, siamo insomma al 60% degli incidenti non alimentari, sono le biglie, le palline di vario tipo, sono le monete e sono gli aghi. Guardate, abbiamo messo gli addosso in giocato, io, quando vado ai congressi a parlare, tipicamente si dice, beh, si parla di bambini, il problema è solo in giocato, ci torneremo su dopo, noi abbiamo il privilegio di vivere in un'opera, l'Europa negli ultimi trent'anni è riuscita ad abbattere il rischio di incidenti di giocatole con la normativa, la direttiva da Toi da Letti, la direttiva sui giocatole che è incredibilmente situale, chiaro, l'abbiamo eliminato nel tutto, però adesso sono al 4%, quindi non sono il problema principale. Ci sono delle categorie? Assolutamente, alcune di queste le vedete qui, queste sono delle categorie, sono delle foto del bambino prima che gli disse estratto l'oggetto, qui addirittura avete il, vedete la moneta alla biografia, all'emoscopia e la moneta dopo l'estruzione. Questi sono tutti i casi che si sono risolti, risolti bene, sono i casi che i nostri medici, tuttora come a noi, mettono a disposizione della ricerca del nostro oggetto. Va detto una cosa, ci stiamo occupando, va detto Marco, di incidenti sedi e quelli sono sicuramente quelli legati al corpo estrato e alle vie aereo gestive superiori, però non dimentichiamo che ci sono un grande tante numero di incidenti che riguardano solo tutti i più grandi cieli, quelli sono dei 7 anni, che sono i colpi estati nelle orecchie e nel naso, che sono i suoi collegati ai gioielli, che sono anche dei pacchetti, ci torneremo magari un po' successivamente su questo, quindi non dimentichiamoci questi aspetti. Qual è l'età? Vedete, quello che stavo appena dicendo, se è vero che il 73% degli incidenti avviene di bambini molto piccoli sotto i 3 anni, quelli che sono oggetto a poi dei warning dell'attenzione che ci sono sui pacchetti, è anche vero il contrario, che ci sono un 30% di incidenti che viene comunque anche nei bambini di età più avanzata, quindi l'attenzione dei genitori non è mai un eccesso amato, non passa mai per la tua vita, E un'altra cosa, i maschi sono quelli che fanno più danni, non sta mai fermo, non si sa, perché dentro di tutto il mondo sono quelli che hanno più incidenti. Siamo comunque più scontrati, sì, assolutamente. Siete? Lo diceva tu sei Francesca che iniziamo a pagare la società di giovanetta. Ecco, volevo, questi sono gli incidenti che rispetto alla cresenza di comunicanze, questi sono incidenti ovviamente non mortali, il bambino è andato all'ospedale, però, come sempre, distraggono oggetto un po' non è solo un'operazione facile. Ci sono trattomigli oggetti perché sono veramente cose che stanno in casa e che è importante quindi che ha fatto alla delegatrizia. Canceleria, le monete, poi parlerà Marco di alimentazione, non dimentichiamoci che gli involuti del cielo infatti dall'umino vanno tolti e non lasciati a disposizione del bambino perché se no a fondo vengono incidenti di rischio che sono molte volte estremamente difficili da individuare. Un'altra cosa interessante anche se si parla purtroppo sempre di numeri si tenta un po' di renderli informativi. Non sempre gli oggetti che causano gli incidenti con maggiore frequenza sono anche quelli più pericolosi. L'ho detto all'inizio le palline e le vigne sono quelli di gran lunga più pericolosi. Si parla di incidenti che non hanno causato l'ostruzione totale delle DRL incidenti che comunque hanno portato il bambino in un qualche momento di ospedale. Ma se noi paragoniamo la gravità di questi incidenti rispetto a quelli a questi incidenti che non hanno cosa funzionare a quello per esempio delle batterie vediamo che non c'è paragonia la barra nostra segna la rischiosità di incidenti grave severo e farò baraggiare la frequenza un'ultima cosa per rispondere a questa domanda che è un po' quella che è fondamentalmente una serie di tattive notizie per noi nel senso che la prima è che i bambini si soffocano sia quando giocano che quando mancano e la seconda cosa da dire è che è letta questa è una cosa estremamente importante incidenti purtroppo avvengono perché c'è un'assenza di supervisione appropriata da parte dei genitori o degli errori delle scolci ma e questa è la parte rossa avviene anche in presenza dei genitori perché i genitori non riescono a vedere il pericolo non sanno guardare purtroppo una delle cose che abbiamo imparato e cerchiamo di fare con la nostra la nostra informazione è soprattutto quella di aiutare i genitori le maestre gli operatori sconastici a saperle leggere il pericolo a saperlo individuare per tempo prevenire significa saperle guardare questo io vorrei capire spesso che si fanno forse di dovinare sempre che cosa le persone per esempio vengono sotto il lavoro della cucina il 90% delle persone chiedono sempre pastiglie della pasturina i lantanti per il perlino sempre le stesse sono comunque un oggetto che oltre a creare un danno da ritorno che si ha dato da varianti più pisanti dal punto di vista non so ma assolutamente anche cose meno coentri pensate alle noccioline quante volte ci capita di fare un parte con gli amici e lasciare le rachidi vicino ai bambini poi le rachidi sono una delle cause principali che sono pocamente nei bambini non solo per l'ostruzione meccanica anche per la reazione stabilica e quindi il rinconfiamento delle pareti che contribuisce alla soluzione e aiutarmi la ricerca come ah perdono ci posso dire una cosa sui maglietti perché volevo due minuti dedicarvi a raccontarvi le tue storie che sono le storie delle storie che sono purtroppo le nostre ricerche le nostre ricerche su due tipologie di argenti estremamente importanti sono decisioni da maglietti qui potete vedere sono fondamentalmente il problema cos'è che quando il bambino ingerisce e qui si fa la digestione di più di un magnete bisogna che i genitori e i pediatri siano assolutamente informati e consapevoli che vi è unismo importante guardate cosa succede i magneti si attaccano questa è una delle grazie vera del bambino che aveva ingerito 12 magneti che si sono riattaccati nel suo corpo ma purtroppo cosa succede succede che dei bambini sono morti per queste situazioni perché i sintomi di situazioni di questi incidenti sono estremamente specifici sono quelli di una normalissima influenza intestinale invece cosa succede vedete i magneti si attraggono nell'intestino possono scusare accettamenti oppure si attraggono perforando le pareti dell'intestino questa è una cosa estremamente interessante poi penso che ci sono a casa i quanti abbiamo pensato in fase del trituzionale sono quelli che uno costruisce la vita di ferro e i bagnistiti che li attacca hanno usato un morto e quattro casi di lesione negli Stati Uniti sono dei prodotti che sono stati dichiarati pericolosi adesso sono usciti dei nuovi modelli che sono più sicuri ma sono stati tolti dal mercato negli Stati Uniti e noi abbiamo lavorato con la Commissione Europea per limitare la distribuzione anche dalle nostre batterie quelli non sicuri stiamo parlando veramente sulle batterie non prevenete le batterie l'avete visto prima che sono estremamente estremamente pericolose dal nostro punto di vista sono il sorprestrare più pericoloso il problema cos'è è che quando sono ingeriti e non danno una reazione immediata come se non so poco avessero un bambino tutti pensano vabbè aspettiamo che faccia la carta non è così immediatamente se c'è anche il minimo sospetto di un incidente da batteria di un gestione di batteria immediatamente all'ospedale 8, 10, 14 ore questo è quello che è il tempo che è il massimo che deve passare affinché non si verificano queste visioni abbiamo il 30% di un bambino su tre che ha questo tipo di complicanze che vedete non sono banali sono perforazioni e che si incenziono l'organizzazione mondiale dello sviluppo economico dedicato proprio dal 2014 davanti a una settimana per la consapevolezza per il generale della famiglia la consapevolezza dei rischi della batteria e penso che dobbiamo fare attenti assolutamente sì assolutamente sì anche perché qui c'è questa a volte questa disperanza non costruisce quello che non costruisce faccia per forza bene e gli dicevo scusami se andiamo un po' di ruolo prima ma mi spuoi aiutare la ricerca di questo lavoro allora io penso che ognuno deve fare la sua parte sto parlando al pubblico di genitori allora innanzitutto segnalamici gli oggetti che ritenete che secondo voi sono pericolosi noi studieremo con i nostri modelli alla fine di informare le autorità le risposte preposta a questo tipo di sorveglianza vi chiedo una banalità abbiamo fatto un po' di volantinaggio ma se non è adesso avete un abitente del liceo e trovate sulle sedie dei questionari partecipate a quella cortezia riempiendo questi questionari se non lo fate adesso potete tranquillamente andare sul sito del nostro progetto www sull'isletto ordeo lì trovate oltre un sacco di informazioni ma anche la possibilità di compilare questi questionari vorrei darvi quattro 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 messaggi così da portare a casa prima di andare via fondamentalmente lì in un sito è vero gli incidenti che abbiamo visto io ho parlato soprattutto degli incidenti non alimentari rappresentano l'importante oggete ma la maggior parte sono dovuti ai incidenti alimentari la diagnosi pronta consapevole e la reazione dei genitori che deve essere mai una reazione di sottosimare il problema è veramente essenziale abbiamo detto prima abbiamo fatto un lavoro incredibile con Europa adesso abbiamo il 4% di incidenti che sono tutti giocati ma per quanto sia importante per fatta la regolamentazione purtroppo non è sufficiente senza una sorveglianza attenta e continua da parte nostra io ho tre figli e mi occupo di sottogliare i genitori di risolvono ma io lo so che lo fanno di fare altrettanto questi sono i nostri due siti direi facciamone un applauso perché non direi quegli altri un cambiamento tutti grazie 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 è stato un piacere avermi qua grazie